Questa mattina è stato siglato l'ultimo atto ufficiale fra il Comune di Salerno e il Fenix Consorzio Stabile col quale viene sancito l'affidamento definitivo dei lavori di ristrutturazione della pista di atterrica leggera e di ammodernamento dell'impianto di illuminazione spettacolare allo stadio comunale Donato Vessuti per un costo complessivo di 225.720 euro. I lavori inizieranno lunedì 7 giugno, un intervento che da tempo appariva necessario indifferibili a cui verrà finalmente data attuazione al fine di riqualificare un impianto il Vessuti che ha una notevole valenza storica e sociale ma anche e soprattutto logistica in quanto accoglie al suo interno tanti sportivi. Ed intanto proprio sulla necessità di investire di più sullo sport si è soffermata l'ultima riflessione del candidato a sindaco Maurizio Basso che in questo ambito si è avvalso della consulenza di Pierluigi Marano, chinesiologo, massoterapista ed esperto in posturologia. Sì, partiamo da Basso, ormai è diventato uno spot pubblicitario, non stiamo lavorando soltanto per la ricerca dei candidati. I candidati ci sono e ci sono tante altre, anzi moltissime persone all'esterno che stanno lavorando insieme a noi, non con noi, insieme proprio e portano le loro esperienze, le loro capacità, molti sono i giovani, poi dopo lo conoscerete e quindi portano idee nuove, idee innovazioni per quanto riguarda questa città che ormai è piatta come ho già detto in altre interviste. Sicuramente in questa città credo che mancano da un punto di vista di strutture sportive, nel senso che anche all'aperto nei vari parchi ci sono pochissime, se non una, mi viene da pensare, nel parco del mercatello c'è una struttura di calisthenics dove i ragazzi si radunano per allenarsi, però in un parco così grande magari anche due strutture per evitare un sovraffollamento o comunque dare la possibilità in qualsiasi fascia oraria ai ragazzi, ma anche agli adulti, ho visto anche padri con i bambini che portavano il figlio ad allenarsi al parco, sarebbe sicuramente necessario, anche al parco Pinocchio non abbiamo strutture, l'aspetto fisico è molto importante, molto importante abbiamo visto da questa pandemia che da un punto di vista di raccolta dati scientifici sia l'abbandono delle attività fisiche da parte di tantissime persone avvenuta come l'aumento di depressione, ansia e si è visto che anche il sovrappeso, soprattutto nelle città del sud Italia, ha aumentato esponenzialmente, esponenzialmente è un dato che fa pensare che il 50% quasi della popolazione ha problematiche di sovrappeso e il 24% fa parte di adolescenti che hanno problemi di sovrappeso, quindi le strutture per invogliare questi ragazzi allo sport credo siano molto necessarie, anche per creare aggregazione, per creare quindi questo stimolo anche di passaggio di testimone tra educazione dal più piccolo al più grande, come se fosse un luogo di ritrovo e appunto di salute.